3 su 3 in campionato per la Ferraroni Juvi Cremona, che ora si prepara ad affrontare la storica fortitudo Bologna. La F, dopo un capono nelle prime due partite con Milano e Rimini, ha vinto con Orzinuovi. Nella conferenza stampa pre-gara è proprio coach Becchia a tenere tutti sull'attenti. È una partita chiaramente importante nella misura in cui l'avversario è importante. È vero anche che queste partite sono tutte uguali, nel senso che la Serie A di quest'anno è un campionato di altissimo livello e equilibratissimo. Vorrei proprio partire da questa parola, cioè l'equilibrio, perché questo è quello che fino a questo momento, in queste tre giornate, si è visto e soprattutto quello che dobbiamo mantenere. Io avverto belle sensazioni che sono piacevoli intorno alla squadra, non c'è dubbio che le tre vittorie hanno fatto bene a tutti. Però sono soltanto tre partite, il campionato procede a velocità elevata. In conferenza a Eco Casa Group anche il neo acquisto Alfonso Zampogna. Il classe 2000 è stato giunto al roster qualche settimana fa dopo qualche allenamento con i Gigliati, ma non ha avuto problemi ad ambientarsi. Per lui la priorità era riprendere ad allenarsi dopo la rottura del legamento crociato dello scorso marzo e ora sogna di far bene con la Juvi. Sono stato accolto, devo dire, molto molto bene, sia da parte del coaching staff, conoscevo già Danilo perché mi aveva allenato a Roseto due anni, due anni fa, e poi anche il gruppo che è giovane era già unito e mi hanno accolto. Sono stati molto simpatici da subito, ci siamo trovati bene, è un gruppo che lavora duro, comunque di ragazzi giovani. Quello anche che cercavo, che volevo io dopo un anno in cui sono stato fermo, mi sono rotto il crociato e quindi diciamo che questa è un'ottima occasione per ripartire da una categoria che tra l'altro non avevo neanche mai fatto.